Sindaco di Dei, problemi in questi giorni, possiamo parlare di una crisi di maggioranza? Ma quale crisi di maggioranza? Non esiste crisi di maggioranza, non so a quale proposito parli di crisi di maggioranza visto che mi pare che siamo tutti d'accordo e le riunioni e le decisioni vengono prese tutte in maggioranza quindi non mi pare che ci sia crisi, non so chi lo dice, chi fa e per quale motivo. Si parla appunto di dimissioni consegnate appunto nelle mani del partito da parte dell'assessore Sergio Serpente lei è stato informato di questo o comunque ha intenzione di chiarire questa situazione? Non ho intenzione di chiarire niente perché non so niente, non conosco niente avendo chiesto io a Sergio Serpente che erano vere queste voci, lui mi ha detto no, è stato un malinteso all'interno della mia maggioranza se è malinteso all'interno della sua maggioranza se lo chiarisca nella sua maggioranza con me c'è da chiarire poco.